Oh, e là? Ti do il benvenuto nel mio negozio. Sono Moglin e vendo armature. Oh, scusa, io... Per favore, dai un'occhiata alla mia mercanzia. Avrei proprio bisogno di vendere qualcosa, se non ti disturba. Oh, salve di nuovo. Spero che tu possa trovare qualcosa di utile. Oh, qualcosa non va? Bene, grazie per aver fatto ritorno. Dai pure un'occhiata alla mia mercanzia. Sono venuto da Ovest, da Volgen. L'hai mai visitata? È un luogo pieno di vita, con un commercio fiorente, molto competitivo ovviamente, e per arrivare da qualsiasi parte bisogna... oliare le ruote. Ma non avevo i fondi per farlo, così me ne sono andato da casa, sperando di fare fortuna. Sono passati anni da allora e ho... Beh, ho fatto davvero poca strada. Non so nemmeno perché sono ancora qui. Tutto sta cadendo in rovina e morendo. Per gli affari è terribile, davvero. Un gruppo di persone che si fanno chiamare le Sentinelle Blu hanno acquistato molto potere a Volgen. Non puoi nemmeno aprire un negozio senza la loro benedizione. Affermano di lavorare per il bene superiore, ma... È una panzana bella e buona. Oh, per gli dèi, ma perché diavolo sono ancora qui? Grazie davvero e, per favore, torna quando vuoi. Beh, spero... spero di rivederti. Oh, speravo che venissi. Mi sono provvisto di un po' di cose nuove e pensavo che avrebbero potuto interessarti. Stanno vendendo abbastanza bene e presto potrei anche alzare il tiro. Sto... Beh, mi sto sorprendendo da solo, ad essere onesto. Sono lieto di vedere che stai bene. Dai... Dai un'occhiata alla mia mercanzia. Già fatto? Hai dimenticato di comprare qualcosa? Prenditi pure il tempo che ti serve. Te l'ho già accennato che non sono di queste parti. Ero in viaggio e in qualche modo sono venuto qui. La desolazione qui dapprima era demoralizzante. Ma col tempo le cose hanno cominciato ad andare per il verso giusto. Sì, ho... Ho qualche cliente abituale adesso. Sono tutti stranamente disperati e ben disposti a pagare per le mie merci. Purtroppo alcuni di loro non fanno più ritorno. Ma cerco di non pensarci. Ho preso in considerazione l'idea di tornare nella mia terra natia. Ma ho deciso di rimanere ancora un po'. Ormai comincio a ricavare un bel profitto e non sopporterei di rinunciarvi. Hai visto quel guerriero che si trascina dietro quell'enorme spada blu? Non sono un esperto, ma mi sembra un bel esemplare. Quell'affare mostruoso ha un design peculiare. A Volgen non si trova niente del genere. Nel caso gli parlassi, chiederesti a quel guerriero se è disposto a venderla. Dovrei darle un'altra occhiata, ma sono sicuro di poter offrire un bel prezzo. Quella spada che hai lì, potrei... Potrei darle un'occhiata? Sì, è interessante. Ah, ah, oh no, mi sa che... No, mi dispiace, ho paura che sia un falso. Non vale un bel niente. L'originale dovrà pur essere da qualche parte, voglio pensare. Grazie mille, torna presto. Siamo sempre aperti. Ehm, chiedo scusa, ci conosciamo? Oh, scusa, è solo che ultimamente sono stato terribilmente impegnato. Ti interessa dare un'occhiata alla mia mercanzia? Prego, fai come se fossi a casa tua. Ho aggiornato le mie scorte di recente, sebbene potrebbero essere un po' al di là della tua portata. Cerchi armature? Tutto ciò che offro è assolutamente affidabile. Ehi, un po' di pazienza! Hai bisogno di armature? Coraggio, controlla le mie offerte. Sono ricco! Sono ricco! Non ho più bisogno di tornare a casa! Casa? Casa? Dove... Dov'è casa? Grazie per l'acquisto, torna presto. Non compri niente? Beh, potrei esaurire tutto mentre sei via. Siamo al verde, eh? Ecco, prendi questi. I miei auguri. Ma chi... cosa... Maledizione! Adesso basta! Ce... ce l'ho fatta? Oh, sei ancora tu? Non mi avrai!